Sì, 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 io sto andando su con l'apparato, quindi non sto usando potenza, perché di solito vado sempre con un po' di rinforzo, tutto qua. Perché come dicevo all'altro collega, il ventaggio qui è stato uno di più fuori, questo è tutto, buon appetito, buon appetito, questo è tutto, buon appetito, grazie. Sì, il città 7, il città 7, il minuto il bravo figlio, Roberto, Whatsapp, chi ti ha messo con un segnale novità che ne vado a noi? Ah, bravo, 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 bravo. Buongiorno da Italia, Whisky 9, Golfe, Queco. Allora c'è il Whisky 2, Golfe, poi è arrivato lo Splatter. Lo Splatter che ha coperto, l'Italia, due... Adesso vediamo, eh, Golfe l'ho sentito, la prima rendita, poi... è solo Splatter dei contestatori, dei contestatori, la prima, 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 la prima. Da sperare, adesso faccio una cosa, cambia radio, ne metto una più selezionale, la prima, la prima. È un pochino, un pochino larga, visto il traffico che c'è, la mole di traffico che c'è, forse ricevo meglio con una radio commerciale, sempre antica, eh, ma perlomeno non proprio vinitese, vinitese... ...come questa. Ok. Allora, Renato, col tuo permesso, faccio entrare. Dunque, quando hai abbassato la potenza, no, non arrivavi per i motivi ovvi delle QRN, se no, sicuramente... Un pochino meribliosi. Un pochino larga, il versatile.